Gentili telespettatori, buona giornata. Giuseppe Conte come Napoleone, non è propriamente un complimento quello che viene detto a Giuseppe Conte, è stato eletto leader del Movimento 5 Stelle, adesso è ufficiale, è il presidente dei 5 Stelle. Tutti dicono iniziato un nuovo corso e questo è quello che dicono i grillini nelle loro chat. Non tutti però la pensano allo stesso modo, dietro le quinte infatti c'è qualche grillino che non amerebbe particolarmente l'ex premier. Tra i non amati di Conte la battuta più gettonata al momento come riporta il quotidiano il tempo sarebbe questa, un nuovo corso, ma allora abbiamo Napoleone che ci guida. E non è tutto, secondo alcuni questa frase, per la sua qualità, sarebbe stata ideata proprio da Beppe Grillo, proprio dalla persona con cui l'ex premier ha avuto non poche discussioni qualche settimana fa. Prima dell'incoronazione infatti Conte era stato accusato dall'ex comico di non avere né visione politica, di non avere nessun tipo di capacità, mentre il leader del Movimento aveva definito inaccettabile una diarchia con Grillo. Intanto l'università di Firenze dove lui in teoria starebbe lavorando, dopo l'incarico di presidente dei 5 Stelle, siano senti pronti a metterlo in aspettativa. L'università dice ha preso dai mezzi di comunicazione la notizia delle lezioni del professor Giuseppe Conte a presidente del Movimento 5 Stelle. L'università di Firenze ha chiesto al docente comunicazione formale della data di decorrenza del mandato per poter procedere a collocarlo in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del DPR 382 del 1980. Da quello che si era preso Conte starebbe continuando a fare classi, lezioni all'università. Naturalmente quello è il suo stipendio, perché attualmente lui non è un deputato, non è un senatore, non è un ministro, non ha uno stipendio dalla politica. Chissà, questo noi non lo sappiamo, ma probabilmente il Movimento 5 Stelle gli starà passando uno stipendio da premier, da premier dei 5 Stelle. Sennò come fa quest'uomo qui a campare senza stipendio? Probabilmente il Movimento gli passa dei soldi. Come Letta? Fino ad oggi, in sti sei mesi, come vive? Anche se avrà magari altre entrate, probabilmente il PD gli passerà una casa e uno stipendio. Sapete che Letta si sta candidando a Siena perché c'è un posto libero da deputato. Un deputato se n'è andato e si andrà a fare un'elezione proprio per questo seggio. Letta concorre a Siena e si dice che a Napoli dovrebbe concorrere per un posto Giuseppe Conte. Ma sembrerebbe che stia pensando di ritirarsi perché ha paura di perdere. Sia Conte che Letta sanno perfettamente che il centrodestra a livello nazionale è in vantaggio. Però perché vanno a correre lì? Vabbè, che sono i posti liberi sono quelli. Però in Toscana, a Siena, Letta spera di essere tra i sinistri che lo votano. Dice che qui il centrodestra è meno presente, che poi non è mica tanto vero. Non è mica tanto vero che in Toscana adesso siano tutti a sinistra. Non mi sembra proprio. A Napoli sapete che alcuni partiti del centrodestra sono abbastanza deboli e qui Conte potrebbe cercare di farcela. Però temono sempre che si possano coalizzare contro di lui, fargli perdere questo seggio e perdere non essere eletti in Parlamento e poi essere capi di un grande partito è una cosa molto contraddittorica. Come tu sei alla guida del PD e non sei riuscito ad entrare in Parlamento, ti ha passato un altro? Oppure su Conte, come tu sei il capo dei 5 Stelle, primo partito in Italia per numero di seggi, che ha vinto le elezioni nel 2018 e tu non riesci a vincere un seggio in Parlamento a Napoli. Capite che se i due dovessero perdere questi seggi. Letta ha già detto che in quel caso ripenserà a tutto, vuol dire che darebbe le dimissioni. Conte invece ufficialmente non ha detto mi candido a Napoli perché ha paura di perdere. Allora preferisce aspettare le prossime elezioni quando automaticamente diventerà un senatore della Repubblica. È troppo rischioso adesso, io sono convinto che i due prendano uno stipendio dai loro partiti, se no non mi spiego come fanno ad andare avanti. Questa è la realtà. Solo che nessuno sui giornali non ha mai trovato un articolo che ho scritto a Conte passano tot euro al mese e a Letta passano tot euro. Deve essere un accordo rimasto realmente molto riservato e nessuno è riuscito a fare uspiuna. Sai quelli che telefonano i giornali, ah c'ho una notiziona, ecco, però datemi la 100 euro, eh, c'ho una notizia, passatemi la 150 euro, eh. Ecco, bene. Su questo io vi ringrazio. Guardate che il 16 e 17 non ci sono, quindi cercherò di mettere qualche video programmato, cercherò di fare qualche video dall'albergo perché devo andare a prendere il passaporto mio dei miei figli e quindi ho bisogno i due giorni per andare a prenderlo. Come l'altra volta, vi ricordate, chi è sul canale ha visto dei miei video fatti dalla camera dell'hotel, no? Bene. Allora, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. intanto siamo anche in Facebook dove c'è la pagina Teleitalia e trovate questi video che li condivido dopo qualche ora. Mentre c'è anche un altro canale che è mio che si chiama Teleitalia Seconda Rete qui su YouTube dove ci sono i video miei e di mia moglie che fa tutte queste cose qua, questi lavoretti fatti con la gomma eccetera eccetera. Quindi vi invito a visionare anche quel canale. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.